c'era una volta una principessa che si annoiava non sapendo come passare il tempo prese allora una palla d'oro con la quale soleva spesso giocare e si addentrò nel bosco fino a dove si trovava una sorgente d'acqua pura e fresca la si sedette e si divertiva a gettare la palla in alto e a riprenderla le accadde tuttavia di lanciarla molto in alto ma la palla ricadde al suolo e rotolò in acqua la principessa spaventata la guardò affondare e la fonte era profonda perdita d'occhio quando la palla fu scomparsa del tutto la fanciulla incominciò a piangere e gridò a la mia palla d'oro darei qualsiasi cosa per poterla riavere i miei vestiti le mie pietre preziose le mie perle perfino la mia corona d'oro come ebbe pronunciato queste parole un ranocchio sporse la sua grossa testa dall'acqua e disse principessa perché mai ti affliggi così miseramente a rispose la fanciulla tu brutto ranocchio come potresti aiutarmi la mia palla d'oro è caduta nella fonte il ranocchio rispose i tuoi vestiti le tue prete pietre preziose le tue perle perfino la tua corona non mi interessano ma se mi accetti come amico e compagno se potrò sedere sulla tua tavolina mangiare dal tuo piattino d'oro bere dal tuo bicchierino e dormire nel tuo lettino allora ti ripescherò la palla la principessa pensava in cuor suo che va mai blaterando questo ranocchio balordo un ranocchio non può essere compagno di una creatura umana e deve rimanere in acqua ma forse può riportarmi la palla allora gli rispose riportami soltanto la mia palla d'oro e poi per conto mio tutto ti sarà concesso come ebbe detto questo il ranocchio immerse la testa in acqua si tuffò e poco dopo tornò in superficie aveva la palla in bocca e la buttò sull'erba la principessa si rallegrò di riavere tra le mani il suo giocattolo il ranocchio disse ora aspetta principessa e prendimi con te ma era come se avesse parlato al vento ella non lo ascoltò affatto corse a casa con la sua palla d'oro e non pensò più al ranocchio il giorno seguente mentre sedeva a tavola con il re e i cortigiani intenta mangiare nel suo piattino d'oro plish plash qualcosa salì balselloni la scala di marmo e quando fu in cima bussò alla porta e gridò figlia di re piccina aprimi e la corse a vedere chi fosse fuori ma quando aprì si vide davanti il ranocchio allora sbatté precipitosamente la porta e tornò a sedersi a tavola piena di paura il re si accorse che il cuore le batteva forte e disse di cosa è paura c'è forse un gigante alla porta che ti vuole rapire ah no rispose la ragazza non è un gigante bensì un brutto ranocchio che ieri nel bosco ha ripescato dall'acqua la mia palla d'oro in cambio gli promisi che sarebbe diventato mio compagno ma non avrei mai pensato che potesse uscire dall'acqua ora è fuori e vuole venire da me in quel mentre si udì bussare per la seconda volta e gridare da fuori figlia di re principessa apri la porta e ricorda la promessa rammenti fa che non sia vana la promessa fatta vicino alla fontana allora il re disse quel che hai promesso devi mantenerlo va e aprigli e la andò e aprì il ranocchio entrò e sempre dietro di lei saltellò fino alla sua sedia lì si fermò e gridò sollevami fino a te la principessa non voleva ma il re ordinò di farlo quando il ranocchio fu sulla sedia accanto a lei disse ora avvicinami il tuo piattino d'oro così mangiamo insieme e la obbedì di mala voglia e mentre il ranocchio mangiò di gusto a lei rimase in gola ogni boccone poi egli disse ho mangiato a sazietà e sono stanco adesso portami su nella tua cameretta e metti in ordine il tuo lettino di seta ci coricheremo per dormire la principessa incominciò a piangere amaramente aveva paura del freddo ranocchio che ella non osava neanche toccare e che ora doveva dormire nel suo bel lettino pulito il re allora la guardò con ira e disse quel che hai promesso devi mantenerlo il ranocchio è il tuo compagno la principessa non aveva più scuse che volesse o no doveva portare con sé il ranocchio ma nel profondo del cuore era furiosa prese allora la bestia con due dita la portò di sopra e quando fu a letto invece di prenderlo con sé lo gettò con tutte le sue forze contro la parete adesso starei zitto brutto ranocchio ciò che cadde a terra tuttavia non era il corpo di un ranocchio morto bensì un giovane principe vivo e dagli occhi belli e ridenti egli ora era il suo compagno e sposo si addormentarono insieme contenti e il giorno dopo quando il sole li svegliò giunse una carrozza trainata da otto cavalli bianchi adorni di piume e finimenti d'oro dietro vi era il servo del giovane re il fedele enrico il fedele enrico si era così afflitto quando il suo signore era stato trasformato in ranocchio che si era fatto mettere tre cerchi di ferro intorno al cuore perché così il cuore non scoppiasse di tristezza ma ora la carrozza doveva portare il giovane re nel suo regno il fedele enrico vi fece entrare due sposi salì dietro piena di gioia per la liberazione quando ebbero fatto un tratto di strada il principe odì dietro di sé uno schianto come se qualcosa si fosse rotto e gridò enrico si rompe la carrozza no no signore voi siete in errore si è rotto un cerchio del mio cuore messo quando mutato in rana vivì di riflesso nella fontana per due volte ancora si udì uno schianto durante il viaggio e il principe pensava sempre che fosse il cocchio ad andare in pezzi invece si trattava solamente dei cerchi che saltavano via dal cuore del fedele enrico perché il suo padrone era di nuovo libero e felice